ciao ragazzi in questo video vi lascio il gameplay di dixit quindi attitola verso l'infinito e oltre qual'era la frase? d'arcelo di finito e oltre quei segnalini lì che rispondono a me lì devo mettere io la tua? sì quella che secondo te è un po' ipocono quindi te prendi i tre punti chi l'ha votata prende i tre punti allora io la mia era questa quindi te prendi un punto e te prendi un punto ah si dà un'altra carta ecco quella che mi mancava infatti diciamo ma come fai finisco le carte? si va Alice nel pezzo delle meraviglie un giro mescolare il giro faccio i patacchini i parerazzi non c'è anche se te l'ha fatto una stanza te sei il verde no 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 era tua cazzone lo sapevo che era tua porca puttana quindi? la mia era questa era la sua il banchetto cioè appena l'ho visto l'ho guardato bene quindi il blu prende tre punti il rosa uguale io e la Chiara ci capiamo ah si? e io e lui ci capiamo io prendo un punto e questo qua chi l'ha messo? Davide il rosso? al momento ha un verde cazzone perché? ma perché? insomma è buono qua qua l'ha messo a me? ti metti paura madre ho fatto qua l'ho non c'è che c'è la cosa non c'è ma l'ho 3 punti a gol Empatia Posso dire bravi Al di là di quello che poi uscirà 2, 3 e 3 La mia era questa Questa era la mia, era perfetta Infatti ho detto Ho visto che l'hai preso in fretta Ho detto chi lo sa Quindi io quanti punti con il rosa 3, 2, 3, 4, 5 C'ho anche questi? 5 io l'ho Sono il rosa Il rosa prende 5 punti 15 Io l'ho indovinata Il rosa ha fatto 3 più 3 Il massimo che si potrebbe fare Bene Bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.